Ciao a tutti, allora mi aspettavo una calza un po' più robusta, nel senso un po' più spessa invece passando col dito non lo è, credevo ci fosse un pochino più materiale ma in realtà non è così non si fa in tempo a vedere sotto il dito ma comunque vi garantisco che non sono così tanto imbottite e neanche così tanto rinforzate qui cioè probabilmente la parte qui dove c'è il rinforzo mi sarei aspettato di trovarlo a questa altezza ovunque e invece sui rinforzi di più ma così così non è. Non abbiamo calza destra e sinistra ma c'è solo come le classiche cioè mono può essere utilizzata sia in destra che in sinistra abbiamo un misto di lana e tessuto tecnico sintetico questo perché la lana scalda molto di più ma assorbe mentre se aggiunta col sintetico fa sì che venga venga si evapori. L'altra questione è che come altezza sinceramente non sono altissime quindi se le utilizzate con gli scarponi appena questo vi scende un po' vi dà fastidio quindi con gli scarponi probabilmente è meglio avere un qualcosa di più lungo. Queste qui sì non sono corte corte però secondo me non è la scelta migliore. La cosa che davvero mi lascia più perpresso è la quantità di materiale che è utilizzata qui perché sinceramente come dicevo prima è un po' troppo poca ecco quindi probabilmente è meglio guardare qualche altra altre alternative piuttosto che prendere queste. Ciao